GSD Porto Torres che parte con i favori del pronostico quest'anno abbiamo buone possibilità di dire la nostra in questo campionato rientrano i medagliati Rio Matt va bene, non vediamo l'ora che arrivi per vedere questa medaglia per festeggiarla insieme a lui, poi Phillip che è medaglia di bronzo quando si parte? partiamo il 22 ottobre con Bergamo alle 19 a Porto Torres Presidente, quanti problemi andate ad affrontare in questo prossimo campionato? economicamente è difficile affrontare una stagione così impegnativa e gli sponsor sono quelli che sono, sia per noi che anche per le altre realtà a livello nazionale lo sport che ha bisogno di attenzione? è veramente bello e emozionante